I danni economici del coronavirus arrivano in cielo. Ryanair ha annunciato il taglio di un volo su 4,25% da e per l'Italia per le prossime tre settimane, fino all'8 aprile dopo aver registrato una caduta significativa delle prenotazioni. Il vettore ha aggiunto che si è verificato un notevole aumento di passeggeri che non si presentano agli imbarchi di voli da e per l'Italia. Dopo Lufthansa, Delta e American Airlines, anche British Airways ha cancellato alcuni voli a seguito dell'epidemia di coronavirus. Contatteremo i clienti dei voli cancellati per discutere le loro opzioni di viaggio, che comprendono la riprenotazione su voli di altre compagnie, il rimborso totale o un viaggio con British Airways in una data successiva, fa sapere la compagnia britannica.